Tante idee, ieri per esempio ho visto un'idea che mi ha rimanato ecco perché io dico che i soldi si devono prestare a chi fa delle progettualità ai giovani, non le banche che te, la banca ti dice mi servono e che te non pare di, capite di marroni, io invece vorrei che i soldi venissero dati a questi giovani imprenditori alle idee progettuali una che ne ho visto ieri andando a casa degli amici un certo momento come entra e vede la moglie la signora, chissà che ha una racchetta una racchetta, c'è il signor che sta da fare questa racchetta, sta uccidendo le zanzare, a madonna avvole le pietre che è una racchetta, no Gianfranco questa è una racchetta elettrica la gente che stava sotto a me perché io non ce l'ho sky, sono andato a vedere la partita c'era il caro amico Salvatore capite con la moglie che teneva, sta cazzo per le racchette, ma che fai facendo uccidono le zanzare, che è la racchetta avvole le pietre, no Gianfranco questa è una racchetta elettrica, praticamente che l'hanno inventato i cinesi l'hanno comprato i cinesi, è una racchetta, guarda veramente ti fa sciire un cervello no ma anche come il modo come è fatta, alla fine tu premi un pulsante escono le due cose perché si ricarica direttamente, cioè non è che ci sta una spin un filo, no la si alza e loro già hanno questo colore e si ricarica, prima cosa idea geniale, queste sono le idee, quelle che fa fare fatturare e poi sta racchetta che c'ha un circuito, praticamente che si accende e si spegne e come la zanzara si avvicina, appena appena ci si avvicina ma pure il che tirava a cinesi, para Madonna abbia fatto ieri mi ha chiappato nelle pante per cinesi ci ha messo un bacio a 15-20 secondi nemmeno i muri, ci ha detto ammazzi questi ne erano F-104, ne erano una zanzara che faceva ci-ci-ci-ci dopo la pietra, ci-ci-ci dopo 15-20 secondi è marcita a cinesi cioè a cinesi la zanzara se forse è grossa signore tu invece di solito come uccidi col ciabattone ma no, non me ne freghi niente le lasci le là, le succhie fagli e mangite quelle che stai fare che me ne frega poi ci stai accorcire le succhie tanto e dopo come finisce muore perché il mio veleno le fa secca tutto sangue e veleno pesce purtroppo grazie a tutti grazie a tutti